Ragazzi oggi siamo in questo nuovo video Io ho visto in questo video di tipo iniziamo questo canale E in questo video vorrei decidere, in questo canale vorrei decidere di fare gaming Gaming vlog challenge se ci sono Allora ragazzi adesso sto registrando alle 9.40 di mattina Mia madre non c'è, mio fratello non c'è, non c'è nessuno a casa Sono da solo con la febbre Eh sì adesso sono con la febbre Scuso E ragazzi in questo canale ho deciso di fare gaming Prima di tutto vorrei chiedervi se voi sapete un'applicazione per editare i video Io non ne so neanche una Quindi studiate però i video potranno uscire anche male Perché io non so editare i video Ragazzi troveranno i video usciranno quando Quando nessuno c'è a casa Eh sì Quindi ragazzi Allora Io vorrei fare anche tipo rispondere a delle domande Quindi qui sotto scriveteci delle domande Dei giochi e altre cose Io su questo canale vorrei fare Minecraft, Pocket Edition ma anche altri giochi Quindi iscrivetevi nei commenti Se volete anche altri giochi E se vi va bene Minecraft Edition Ragazzi Per il prossimo vlog Il mio Hashtag Dimmi vlog e vi risponderò a delle domande Vi lascio il link in descrizione della mia pagina Facebook Pagina Instagram E il mio tweet E lo ci vediamo Per il prossimo video Ciao ciao Cazzo ragazzi Mi riesco Scusate ragazzi Perché la postazione è uscita male No ci vediamo No ci vediamo Ciao ciao